... Schiamazzi e lanci di bottiglie dagli ultimi piani del Parc Dal Negro a Treviso a denunciare la situazione divenuta insostenibile, amministratore e inquilini di un residence di via Pinelli il sindaco Conte dice aumenteremo la vigilanza Padre in fuga a Treviso dopo aver tentato di derubare un'anziana, scagliate pietre e anche un cartello stradale contro i poliziotti all'inseguimento Due pregiudicati di 22 e 19 anni di resane restati dai carabinieri avevano aggredito a Jesel un diciassettenne rubandoli la collana e chiedendo un riscatto In arrivo un uomo di PCM che dovrebbe essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani ci sarebbe il via libera crociere e fiere con distanziamenti e mascherine, ancora stop invece per staglie e discoteche Incidente sul lavoro ieri sera in un'azienda di Porto Buffolet, trentenne operai ustionato a gambe e braccia per la combustione di uno straccio imbevuto di diluente Atreviso il costo di smaltimento di rifiuti di pannoloni e presidi sanitari dell'autunno sarà a carico del Comune l'iniziativa per andare incontro a chi in casa assiste anziani, malati e invalidi Lavori di risistemazione idraulica del Rio Fuin, da domani verrà interdetta la circolazione sul tratto del Tarraio davanti al cimitero di San Lazzaro Previste deviazioni per auto, moto e veicoli pesanti Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati Il telegiornale di Treviso e allora prima di iniziare con un'ampia pagina di cronaca come sempre uno sguardo al bollettino dell'azienda Zero Nella seconda parte della giornata di oggi per avere conto dei contagi registrati appunto dall'azienda Zero Che sono nel totale la regione del Veneto nelle ultime ore 19 casi, zero di questi a Treviso Vanno a sommarsi a quelle ai 28 che sono stati registrati nella notte per un totale di 47 Ancora vediamo, casi attualmente positivi in tutta la regione sono 1075 A Treviso sono 275 casi attualmente positivi I deceduti restano 2078, 17218 invece i negativizzati Zero decessi nelle ultime ore come vedete anche nella tabella E poi ci sono i dati relativi alla presenza delle persone attualmente positive appunto nelle strutture di ricovero dell'azienda Zero Quindi questa è la situazione In attesa peraltro di avere proprio in queste ore, in questi istanti Anche l'esito del ultimo giro di tamponi effettuato all'ex caserma Serena c'è anche grande attesa ovviamente per capire com'è la situazione nella struttura dei migranti tra Casern e Treviso Torneremo a parlare di Covid fra pochissimo Restiamo però a Treviso per parlare di una denuncia di degrado ma non solo Anche di insicurezza, schiamazzi e lanci di bottiglie dagli ultimi piani del parco Dal Negro a Treviso, parcheggio privato gestito dalla società APCOA A chiamarci per denunciare questa situazione Amministratore e anche gli inquilini di un residence di via Pinelli Sentiamo Io li vedo andare su con i telefonini la sera perché hanno il telefonino acceso E vedo proprio la luce salire E poi si fermano al penultimo piano Dove bevono, fanno schiamazzi, urlano e buttano appunto bottiglie Lanci di bottiglie di vetro dagli ultimi piani del parco Dal Negro Amministratore e inquilini di questo residence di via Pinelli Già teatro nel 2018 dell'incendio di due auto da parte di un piromane Hanno chiamato la nostra redazione per sollevare un problema che va avanti ormai da un po' Un mesetto circa, un mesetto sì che si trovano poi i vetri per terra E noi anche se puliamo però è di continuo insomma Non è che lo fanno una volta poi dici vabbè pazienza Continuano a farlo e noi siamo obbligati insomma a pulire, a tenere pulito per non avere problemi con le macchine Alla residente di una casa accanto con una bottiglia hanno quasi colpito il cane Questi giovani sui vent'anni salgono fino agli ultimi piani del parcheggio Poi scendono dalla scala antincendio esterna che mostra evidenti i segni del via Vai Interventi delle forze dell'ordine ce ne sono già stati ma gli episodi continuano a ripetersi Ci siamo innanzitutto rivolti al personale del parco Dal Negro Il quale mi ha detto faccio un'email Ci siamo rivolti alla questura, abbiamo fatto denuncia Abbiamo esposto quelli che sono stati fatti Anche in particolare gli ultimi di sabato scorso alle 2 di pomeriggio E ci hanno assicurato il loro interessamento Le ore notturne del fine settimana, quelle più a rischio Gli abitanti di via Pinelli si aspetterebbero che ci fossero dei controlli all'interno del parco Mi hanno detto che c'è un controllo, seppur modesto, limitato Mi hanno detto che ci sono anche le telecamere Noi non le abbiamo ma loro sì Quindi ritengo che potrebbe esserci anche la possibilità di vedere Chi gira in questo parco Dal Negro al quinto piano in certi orari e fa certe cose Una situazione dunque di insicurezza e di degrado Rispetto alla quale abbiamo chiesto un commento al sindaco Mario Conte Che ai nostri microfoni si è impegnato a occuparsi del problema Fin dalle prossime ore, sentiamolo Sicuramente episodi gravi che non corrispondono all'immagine della città di Treviso che noi vogliamo dare Ringrazio i cittadini per la segnalazione Mi scuso anche per i disagi che stanno subendo Ovviamente adesso trasferirò l'informazione alla polizia locale E contatterò anche la questura Perché si metta a fine a questi episodi di degrado, di maleducazione e anche di violenza Perché lanciare delle bottiglie verso le macchine piuttosto che verso le persone È un'aggressione vera e propria Quindi l'impegno che mi prendo è quello già dalle prossime ore Di intensificare i controlli per cercare di beccare i responsabili di questi atti E soprattutto trovare delle soluzioni perché questo non succeda più Tema sicurezza ancora in primo piano Ladri in fuga dopo aver tentato di derubare un'anziana Sempre a Treviso In fuga hanno scagliato pietre e anche un cartello stradale contro i poliziotti all'inseguimento Prima il tentato raid a casa dell'anziana Poi la fuga con la polizia alle calcagne L'inodita violenza con la quale si sono scagliati contro i poliziotti Prima che gli agenti riuscissero a bloccare uno dei due malviventi Gettatosi in un canale Una mattinata ad alta tensione iniziata in zona fiera Quando una novantenne è riuscita nonostante l'età e le difficoltà a camminare A far scappare un giovane che si era presentato alla porta come operatore della società del gas Chiedendo di poter visionare il contatore La novantenne inizialmente è caduta nel tranello facendolo entrare Quando però lo ha visto spostarsi nelle altre stanze della casa La donna ha cercato con una scusa di allontanare il giovane Una volta rientrata in cucina si è a scorta che alcuni cassetti erano aperti Intanto il malvivente era uscito chiamato da un complice in scooter La presenza di un vicino le aveva fatti desistere Ma è stato solo l'inizio Gli agenti delle volanti grazie alle testimonianze hanno individuato i due in breve tempo in via Montello Ed è qui che è nato l'inseguimento stavolta a piedi Una corsa nella quale i malviventi hanno scagliato contro i poliziotti i propri caschi Ma addirittura pietre e un cartello stradale di velto nella fuga Poi il tuffo in un canale per far perdere le proprie tracce Ma uno dei poliziotti non ha esitato a buttarsi in acqua e a bloccare uno dei due Subito l'altro agente seppur rimasto ferito dal casco scagliato gli addosso È a corso in aiuto Riuscendo a farli uscire dall'acqua alta Il bandito catturato è un 26enne di Torino Con numerosi precedenti di polizia Arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni ai poliziotti Con sé aveva numerosi attrezzi a te lo scasso Ed ora è caccia l'altro uomo Il finto tecnico del gas che aveva quasi raggirato l'anziana Stava invece tentando di installare uno skimmer Lo strumento che copia i codici PIN Sullo sportello posta amata dell'ufficio postale di Santa Lucia di Piave Parliamo di un 29enne cittadino bielorusso Senza fissa di mori in Italia Che è stato individuato e bloccato prontamente dai carabinieri di Conegliano L'uomo è stato anche trovato in possesso di alcune carte di credito Un pc portatile, materiale elettronico vario e 7.000 euro in contante Sono invece di Resana, giovani ma già conosciuti dalle forze dell'ordine Due malviventi che hanno prima aggredito un ragazzo, un 17enne a Jesolo E poi hanno anche tentato di farsi consegnare del denaro per far ritornare questa collana Sentite Due pregiudicati di 22 e 19 anni, entrambi residenti a Resana, sono stati arrestati a Jesolo Con l'accusa di rapina e tentata estorsione in soccorso Alle tre e mezza di notte avevano bloccato un 17enne nei pressi di Piazza Brescia Strappandogli dal collo una collana in oro bianco con ciondoli Per la cui restituzione chiedevano 200 euro Al rifiuto del giovane il duo si è allontanato per via Bafile Seguito però a distanza dal rapinato e da alcuni suoi coetanei Seguendo le indicazioni della centrale operativa dei carabinieri di Sandona di Piave Ai quali i ragazzi si erano rivolti per chiedere aiuto Sino all'arrivo della pattuglia dalla stazione di Eraclea La collana è stata poi ritrovata tra il fogliame a Catastato a Bordostrada Uno dei due arrestati è stato peraltro trovato in possesso di una modica quantità di marijuana E segnalato alla prefettura Entrambi i giovani sono stati rinchiusi al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia Restiamo però per un attimo a Iesolo per tornare a parlare di Covid e di coronavirus Perché dopo le polemiche e i disordini dei giorni scorsi In queste ore è iniziato lo svuotamento della struttura della Croce Rossa Il governatore Zaia ribadisce questi centri Quindi si riferisce anche all'ex caserma Serena Sono anacronistici Sono iniziate nelle scorse ore le operazioni di svuotamento della Croce Rossa a Iesolo I richiedenti asilo presenti nella struttura sono stati spostati a bordo di pulmini E ora verranno ricollocati in altri centri d'accoglienza Resta ancora da capire se sempre in provincia di Venezia o se verranno distribuiti nella regione Qui a Iesolo invece rimarranno una dozzina di migranti risultati positivi al Covid in attesa del tampone negativo Ad un'altra decina di richiedenti asilo invece verrà revocata la misura dell'assistenza Per il loro comportamento non rispettoso delle regole Nei giorni scorsi la struttura di Via Levantina era diventato lo scenario di scontri e proteste dei richiedenti asilo Una situazione che aveva portato il sindaco Zoggia a chiedere il commissariamento della struttura Che i sopralluoghi di Ulse e Prefettura avrebbero ritenuto non idonei a garantire la sicurezza sanitaria Una sessantina di migranti ai quali bisognerà trovare ora una nuova collocazione I riflettori dunque continuano a rimanere puntati su queste realtà pronte ad esplodere da un momento all'altro Queste strutture ormai sono anacronistiche, fuori dalla storia e lo sono ancora di più dal punto di vista sanitario Perché per Antonio Masi un'aggregazione del genere non è in linea con le norme anti-Covid Intanto da oggi sono online gli atti del Comitato Tecnico Scientifico relative all'emergenza Covid Che il Consiglio dei Ministri ha deciso Come sapete senza polemiche in questi giorni di desecretare E nel fine settimana in arrivo anche l'atteso nuovo di PCM Le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto presentano una situazione epidemiologica complessa Attesa alla circolazione del virus, tale da richiedere la prosecuzione di tutte le misure di contenimento Già adottate opportunamente riviste Questo è un estratto di quanto scritto dal Comitato Tecnico Scientifico Nelle 200 pagine degli atti finora secretati e adesso resi pubblici Era il 28 febbraio, esattamente sette giorni dopo, il primo caso di Codogno e i due di Vo Il CTS allora suggeriva al governo una serie di misure più restrittive per le tre regioni Dieci giorni dopo il governo adotterà la misura del lockdown per Lombardia E altre 14 province di Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte Cinque verbali che ripercorrono la storia dell'emergenza nel nostro paese Attraverso le analisi degli esperti del Comitato Che hanno indirizzato poi le decisioni del governo Dopo le pressioni arrivate da più parti La presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di desecretare i documenti Decisioni di questa levatura e di questo impatto pubblico Devono avere la possibilità di essere conosciute da parte di tutti D'altro canto non c'è assolutamente nulla da nascondere Anzi ci mancherebbe anche altro Gli atti in quanto tale devono essere resi pubblici Perché sono la fonte di riferimento Poi per le scelte politiche che devono tenere conto naturalmente Di tutti gli approfondimenti scientifici che sono stati fatti E le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico Continuano a guidare le scelte del governo Anche in vista del prossimo DPCM Che dovrebbe vedere la luce tra sabato e domenica Con disposizione in vigore già dal lunedì 10 agosto Restano confermate le misure di prevenzione Come uso della mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani Via libera alle crociere, alle fiere Stop invece per stadi e discoteche Novità già anticipate dal Ministro Speranza Per i mezzi pubblici con il ritorno della distanza tra i passeggeri Credo sia semplicemente la prosecuzione delle misure in corso Esattamente come ha deciso Zaia Zaia stesso ha detto che da qua il 15 ottobre Ci sarà in Veneto una prosecuzione Diciamo delle norme di sicurezza Che sono state individuate nel corso della scorsa settimana La stessa cosa viene di fatto a livello nazionale Nel frattempo sul trasporto pubblico le regioni hanno chiesto un incontro urgente Per lunedì proprio al governo Intanto sempre oggi la conferenza delle regioni ha condiviso una proposta Ad avanzare al governo Relativa alla partecipazione del pubblico agli eventi sportivi Che può essere consentita esclusivamente nel settore degli impianti sportivi Nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata Nel rispetto del distanziamento interpersonale Sia frontalmente che lateralmente di almeno un metro E per gli ambienti al chiuso Con obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie Quanto si legge in una nota della conferenza delle regioni Riunitasi oggi Quindi una proposta che verrà avanzata al governo Avete sentito del DPCM Insomma che porterebbe a un altro no Diciamo alla presenza negli stadi In ogni caso si aggiunge nella nota della conferenza delle regioni Tutti gli spettatori secondo questa proposta Devono indossare la mascherina dall'ingresso Fino al raggiungimento del posto Per i bambini valgono le norme generali E comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso Incluso il momento del deflusso Insomma una proposta per Con tutte le sicurezze del caso Poter portare La partecipazione del pubblico Agli eventi sportivi Vedremo se sarà accolta o meno All'interno del nuovo DPCM Come sapete è sul tavolo Del Consiglio dei Ministri Domani dovrebbe vedere la luce Diciamo definitivamente tra sabato e domenica Intanto resta sempre l'effetto economico Del coronavirus e del lockdown Ma anche delle decisioni Ovviamente di prolungare lo stato di emergenza Operatività delle imprese compromessa A causa del rientro di molti dipendenti dalla feria In paesi a rischio covid Si tratta del 13% dei lavoratori Che si recano negli stati di origine Devono poi rispettare la quarantena Mettendo in difficoltà le imprese L'allarme è del confartigianato Rientreranno dalla Romania Dall'Albania Dalla Macedonia Dal Kosovo Da altri stati considerati a rischio covid Perché il 13% dei dipendenti Delle imprese artigiane del trevigiano È originario di queste nazioni E con ogni probabilità Trascorrerà le sue ferie Ricongiungendosi con la famiglia Nel paese natale Da tale presupposto Parte l'allarme di confartigianato Marca trevigiana Che mette in guardia Molte imprese si ritroveranno Con carenza di personale Poiché gran parte Dei dipendenti di rientro Da paesi a rischio covid Sarà in quarantena Obbligatoria per 14 giorni Oltre a compromettere La produttività dell'azienda Questa situazione Si tradurrà in un costo Chiediamo che quanto o meno Il decreto che era stato fatto a marzo Per intervenire a favore delle imprese Per i dipendenti in quarantena Venga attuato E cioè le spese Non coperte Dalla malattia dell'Inps Siano coperte Da questo decreto Che ha 380 milioni Stanziati Ma non è tutto Le ripercussioni Dell'emergenza sanitaria Si vedranno anche Sulla necessità Di riorganizzare il lavoro Per questo Una proposta Per riqualificare le persone In vista della ripresa autunnale Noi dobbiamo smetterla Con le politiche passive Del lavoro E cioè pagare Il reddito di cittadinanza Pagare il reddito di inclusione Anche la stessa cassa integrazione Possono essere convertite A politiche attive Poi ci sono i negozianti I commercianti Del settore abbigliamento Alle presi in questi giorni Con la prima settimana I primi bilanci Dei saldi Federmosa Treviso Intanto è favorevole Al bonus acquisti Che includa anche Il settore abbigliamento Anche il settore abbigliamento Tra quelli che potrebbero beneficiare Del nuovo bonus acquisti Che il governo Sta predisponendo Con il decreto di agosto Per ridare slancio Ai settori maggiormente In difficoltà Al di là di come possa Poi concretizzarsi Si ipotizzano Il sistema della card Piuttosto che il rimborso Al contribuente Oltre che un premio Per chi paga Con carta e bancomat Gli operatori E i loro rappresentanti Accolgono con favore L'attenzione Verso un comparto Da sempre trainante In Italia Bisognerà vedere Di cosa si parla Perché Credo che ora Servano cose Come dire Concrete Sostanziose Per poter Dar piatto A un settore Economico Che è fortemente In crisi Tra l'altro Il prodotto interno Lordo Del sistema Modem Compreso Con la fee Che produce Che distribuisce È uno dei più importanti In Italia Le stesse categorie Avevano lanciato Diverse idee A sostegno del settore Come il voucher Per chi vende Prodotti realizzati In Italia Perché la crisi Che si sta affrontando È senza precedenti E più grave Di quella del 2008 Qualsiasi cosa Fatta bene Perché non serve Alcino Sono cose fatte bene Sono benvenute Poi È importante Credo che Vengano anche Dispusse Con le rappresentanti Del settore Del nostro settore Perché altrimenti Si perde un pezzo Di ogni decisione Bisogna scongiurare Una moria dei negozi Aggiunge Pomini Non solo Per una questione Economica Ma anche sociale Molte delle nostre Attività Rischiedono Nei centri storici Hanno Come dire Un concetto Di luce Per queste nostre Bellissime città Che va ben oltre All'aspetto puramente Economico O di bilancio Di ognuno di loro Adesso Una piccola Pausa pubblicitaria Poi di nuovo In diretta Torneremo a parlare Di cronaca Una grave infortuna Sul lavoro A Porto Bufolè E poi anche Due seri Incidenti stradali Rieccoci In diretta Allora dicevamo La cronaca Torniamo alla cronaca Un grave incidente Sul lavoro Ieri sera A Porto Bufolè L'incendio sarebbe Divampato A causa Della combustione Di uno straccio Imbevuto Di diluente Che ha preso fuoco Le fiamme Hanno investito Un operaio Dipendente Della ditta Che è rimasto Ustionato Alle gambe Alle braccia L'incidente Sul lavoro È avvenuto Ieri Intorno alle 23 Presso la Nikos International Di via Bastie A Porto Bufolè Le urla Dell'uomo Hanno attirato L'attenzione Dei colleghi Che hanno tentato La dinamica Di questo Incidente Della Germania Tra i feriti La madre E i due bambini Tutti in modo Apparentemente Non grave Trasportati dal personale Del suo Minospedale A Mestre L'altro incidente Invece grave Avvenuto La scorsa Notte A Gorgon Monticano Lungo la Postumi A scontrarsi Frontalmente Due auto Una Fiat Punto Una BMW Feriti Ma fortunatamente Non in pericolo Di vita I conducenti Dei due mezzi Una 57enne Di Conegliano Un 19enne Di Mansuet Il boato Dell'incidente Ha attirato Alcuni residenti Che hanno dato L'allarme Sul posto Sono intervenuti Vigili del fuoco Per estrarre Ovviamente I feriti E poi anche Le forze Dell'ordine Per i rilievi Il traffico Rimasto A lungo Interdetto Adesso Prima di tornare Atreviso A parlare Di una importante Iniziativa del Comune Vi diamo conto Della nota Della L'Ulss 2 Sugli esiti Del terzo Round Di tamponi All'ex Caserma Serena Allora Si è conclusa Dice la nota L'Ulss 2 Questa sera La processazione Del terzo round Di tamponi Effettuati Sui migranti Operatori Dell'ex Caserma Serena Complessivamente Ieri Erano state Sottoposte A test 309 Persone Delle quali 284 Ospiti E 25 Operatori Sono risultati Positivi 244 Persone Di cui 11 Operatori Mentre i negativi Sono 47 18 tamponi Sono da Riprocessare I risultati Quindi 244 Positivi I risultati Del nuovo screening Non comporteranno Dice l'Ulss 2 Alcuna modifica All'interno della struttura Dove tutti i migranti Resteranno in quarantena Tutti i negativi Sono invece Risultati I contatti Del bengalese Ospite A Roncade Degli alloggi Gestiti dalla cooperativa Di accoglienza Aurin Si tratta di 24 migranti E due operatori In questo caso Tutti i negativi Due positività Sono invece Emerse Ad ora Tra i contatti In ambito Lavorativo Dei migranti Dell'ex Serena Complessivamente Circa 130 Le persone Che sono state Sottoposte A tampone Sono ancora in corso L'operazione Di effettuazione Dei tamponi E operatori Ospiti Della RSA Di Vedelago Quindi un altro fronte Quindi ci sono Due positività Emerse Tra i contatti Lavorativi Dei migranti Dell'ex Serena E l'esito Del tampone Del terzo round Di tamponi Sulle 309 persone All'interno Della ex caserma Tra ospiti E operatori È di 249 Positivi Non comporta Alcuna modifica All'interno Tutti quanti Restano in quarantena Questi sono Ovviamente Dati importanti Di aggiornamento Per quanto riguarda L'ex caserma Serena Torniamo allora A parlare adesso Però di Un'iniziativa importante Di Cassugana Che si Prende carico Del costo di smaltimento Di rifiuti Di panoroni Presidi sanitari Dall'autunno È un'iniziativa Per andare incontro A chi in casa Assiste anziani Malati e invalidi Sarà il comune Dal primo ottobre A farsi carico Della quota variabile Della tariffa Per lo smaltimento Di pannoloni O altri presidi sanitari Da gettare nel secco A questo scopo La giunta di Cassugana Ha disposto L'accantonamento Di 50 mila euro L'anno Il regolamento Del consorzio Di bacino Priula Già prevede Una tariffa ridotta In caso di disagio Certificato E di un'isee Pari o inferiori A 18 mila euro Il comune di Treviso Ha deciso Di andare oltre Di prendersi carico Della spesa E di farlo A prescindere Dalle condizioni Economiche Dei cittadini Interessati Dal provvedimento Le famiglie Che hanno anziani O persone con disabilità O comunque Con qualche disagio sanitario Quindi devono Utilizzare il pannolone Hanno avuto Un carico maggiore Durante i mesi Del lockdown Le difficoltà Sono importanti Ritenevamo Che non fosse giusto Che oltre al carico Sanitario E di cure Ci fosse anche Un esborso economico Maggiore Rispetto a chi Invece il disagio Fortunatamente Non lo ha Era un assurdo Che noi spingessimo Le famiglie A fare la differenziata E le persone Che hanno Questi problemi Che ricordano Possono essere Anche per periodi brevi Perché sono persone In cura oncologica Quindi magari hanno Questo tipo di disabilità Anche per periodi brevi Che fossero aggravati Di un ulteriore costo E sarà non una tantum Quindi non sarà Dal primo ottobre Di quest'anno Al primo dicembre Ma sarà strutturale In questo momento Di difficoltà Tutto aiuta E questo è un aiuto Concreto Soprattutto verso Famiglie che hanno Stazioni di fragilità C'è stato un forte sostegno Nella segnalazione Anche da parte Dell'associazionismo Del volontariato Credo che alla fine Chi potrà beneficiarne A spanne Sia sul migliaio di famiglie Che è un numero Sicuramente rilevante Adesso una notizia Di servizio importante Perché domani Verrà interdita Da domani pomeriggio La circolazione Su un tratto Del terraglio Con la previsione Di deviazioni Per auto Moto E veicoli Pesanti Per i lavori Di sistemazione Idraulica Di Rio Fuin Nel quartiere Di San Lazzaro L'intervento Che riguarda i quartieri Sant'Angelo San Zeno e San Lazzaro Zona Ghirada Rientra nel progetto Di complessiva A ricalibratura Del Rio Fuin Dalla Ghirada Fino a via Zermanese Ma anche Zermanese Poi del rifacimento Del ponte sotto La via Zermanese E un aumento Della portata Delle canalette Esistenti A valle Della Zermanese Il periodo Di interruzione Del tratto Del terraglio Fronti Ingresso Del cimitero Maggiore Sarà Dalle ore 14 Di domani 7 agosto 2020 Fino Alle ore 5 Del mattino Di lunedì 10 agosto 2020 Tempo Però Questo massimo Che potrà essere Comunque ridotto Quindi Il tempo massimo È fino alle ore 5 Di lunedì 10 agosto Per la interruzione Del tratto Del terraglio Di fronte al cimitero Ma potrebbe essere Ridotto Nei prossimi Giorni È stata pianificata Con la polizia locale Una modifica provvisoria Alla viabilità Con deviazione Dei veicoli leggeri Cioè Auto e moto In via Tony Benetton E per i veicoli pesanti Dalla nuova rotatoria Metal Chrome Entrata in via Pindemonte Svolta in via Zermanese E ancora svolta In via Mozzato Per l'immissione Nuovamente Dal terraglio Quindi questa è La situazione Da domani Dalle 14 Di domani Nel tratto di terraglio Fronte cimitero Di San Lazzaro Adesso Ci Passiamo Passiamo allora Dico anche alla regia Passiamo Alla notizie Dal Bellunese E torniamo a parlare Ovviamente del maltempo Che ha colpito Auronzo Una settimana fa Il violento Nubifragio Nubifragio Ci sono ovviamente Continua la conta Dei danni Da parte del primo Cittadino L'importo Dice il sindaco Deve essere ancora Quantificato Lo spirito è quello Di ovviamente Ripartire Immediatamente Ci sono dei danni Consistenti Alla rete Foniaria Che riguarda Anche tutto il circolo La quale Attorno al lago Di Santa Caterina Quindi il BIM Sta lavorando Incessatamente Per risolvere Questo problema E credo che ce ne vorrà Almeno ancora una settimana E' un disagio enorme Anche per Le seconde case Che ci sono Insomma nella zona Sottostante il municipio Si lavora senza sosta Da Auronzo di Cadore Che deve risollevarsi Dopo il violento Nubifragio Di una settimana fa I servizi forestali Entro la settimana Eseguiranno un intervento Di somma urgenza Per mettere in sicurezza L'area dove l'alveo Del torrente è traccimato Mandando sott'acqua Il centro del paese Operai comunali Protezione civile I cittadini Stanno dando il meglio di sé In quella che è una vera E propria corsa Contro il tempo Per garantire La piena fruibilità Del centro montano Ai piedi Delle tre cime di Lavaredo Noi siamo insomma Ottimisti Perché le prenotazioni Sono moltissime Turisti arriveranno Da tutte le regioni D'Italia Gli appartamenti Sono già tutti esauriti E quindi auspico Che anche gli alberghi Abbiano il pieno Di prenotazioni E che la stagione Continui anche per settembre Uno sforzo enorme Anche in vista Dell'arrivo di migliaia Di supporter Al seguito della Lazio In ritiro Per la tredicesima volta Consecutiva ad Auronzo La squadra si fermerà Dal 23 agosto Al 4 settembre E per Auronzo E la provincia intera È un evento importante Anche per la promozione Della montagna bellunese Per noi è molto importante Perché crea Un indotto turistico Non indifferente Con dalle 10 Alle 12 mila persone Che arrivano di solito Al seguito della squadra Quindi gli operai comunali E tutti gli uffici comunali Stanno lavorando Per avere tutto Predisposto al meglio Per quella data Questo è sicuramente importante Perché è anche L'unica squadra di serie Da quel che mi risulta Che tiene un ritiro estivo È stato ritrovato Senza vita Primo De Bortoli L'uomo del quale Non si avevano notizie Dallo scorso 29 luglio Una squadra di ricercatori Neariz Rinvenuto il corpo All'interno Di un rudere A Pianna d'Avena L'uomo era Uscito dalla sua Abitazione A Pianna d'Avena Zaino in spalle Non aveva più fatto Ritorno La salma è stata Recuperata E trasferita Nella camera mortuaria Di Feltre Il tema del Nevegal L'Alpe del Nevegal Non ci sta Ad essere il capro Espiatorio Della mancata Apertura stiva Della seggiovia Sono state date Informazioni incomplete Ed è stata violata La riservatezza Dei documenti Ha detto stamattina Il presidente Della società Curti Quando il sindaco Riferisce che non abbiamo Consegnato a Bellunum I documenti richiesti Dice la verità Alpe del Nevegal Non lo ha fatto Perché il primo agosto Su un quotidiano È stato pubblicato L'elenco delle richieste Contenenti dati sensibili Che la società Ha presentato a Bellunum Per dare seguito Al trasferimento Del ramo d'azienda È la violazione Della clausola Di riservatezza Chiesa da Alpe Mai fornita Dall'amministrazione comunale Il caso Sbelli Che ha bloccato Sul nascere L'operazione di affitto Degli impianti Per la stagione estiva Questo a noi Non sta bene E questo è il motivo Per cui Prima di consegnare I dati Che ricordo Essere stati Addirittura 40 punti Questi 40 punti Contenevano Anche dati sensibili Abbiamo chiesto Un contratto Di riservatezza Un accordo Di riservatezza E questo Purtroppo L'amministrazione Non è stata in grado Di potercelo dare Il presidente Dell'Alpe Del Nevegallo Dice a chiare lettere Non si banalizzano Informazioni Per giocare Allo scaricabarile Diverso è stato Il rapporto Dell'Alpe Con la società Paragon Individuata dal comune Tramite bando Per verificare La fattibilità Della riacquisizione Degli impianti Noi con la Paragon Abbiamo collaborato In assoluta sintonia E a pochi giorni Dopo che c'era stato Comunicato Che il comune Aveva scelto La Paragon Come advisor Abbiamo inoltrato La documentazione Richiesta Nei tempi stabiliti E dunque Sul futuro Del Nevegallo Si continua a navigare A vista Naufragata La possibilità Di aprire la seggiovia Per il periodo estivo Si guarda all'inverno E in tempi Sono strettissimi Alpe del Nevegallo Ha annunciato La decisione Di procedere Allo scioglimento Della società Secondo la roadmap Già segnata Nel 2018 Mettiamo in liquidazione La società Perché la società È ferma E quindi Una società ferma Deve per forza Essere sciolta Questo non proibisce Però come oggetto Altre volte Che il comune Abbia ancora il tempo Di intervenire E acquisire gli impianti Affinché l'operazione Vada in porto I passaggi da affrontare Sono inderogabili Stabilizzare La gestione Degli impianti Quindi Risolvere il problema Delle ERTE Per cui ricordo Che c'è anche Contributo regionale In corso E fare alcuni lavori Sul sistema di innevamento Ritengo che Con il piano minimale Di investimenti Di un milione e mezzo Sia possibile Garantire Il mantenimento Dell'impiantistica Ancora la cronaca Sono arrivati Nell'Ampezzano Con una mini cooper Presa a noleggio Con lo scopo Di rubare i bicicletti Ci stavano anche Riuscendo a bloccarli In mezzo al bosco Sono stati gli agenti Del commissariato di Cortina Che da tempo Hanno alzato il tiro Contro l'odioso fenomeno Dei furti di bici Nelle località turistiche Montane Nella provincia Di Belluno In manette Sono finiti Due giovani Di nazionalità ucraina Portati in carcere Il giudice Ha convalidato L'arresto Ne ha disposto La scarcerazione Con l'obbligo di dimora In provincia di Venezia Le biciclette trafugate Nel valore complessivo Di 6.000 euro Erano state sottratte A dei turisti Ospiti in un camper Del campeggio Olimpia A Cortina Nella perquisizione Domiciliare Dei due movimenti E' stata sequestata Un'altra bicicletta Risultata rubata Del valore di circa 5.000 euro Quindi parliamo di Biciclette di lusso Siamo in chiusura Prima di lasciare il meteo Vi ricordo una notizia Che vi ho dato poco fa Molto attesa Cioè l'esito Del terzo round Dei tamponi Alla caserma serena Con numeri importanti Perché vi ripeto Come dice la nota Dell'Ulss 2 Ieri erano state sottoposte A test 309 persone Delle quali 284 ospiti E 25 operatori Ebbene sono Risultati positivi 244 persone Di cui 11 operatori Mentre i negativi Sono 47 I risultati Del nuovo screening Non comporteranno Dice l'Ulss 2 Modifica all'interno Della struttura Perché tutti rimangono In quarantena In più Due positività Sono invece emerse Tra i contatti In ambito lavorativo Dei migranti Dell'ex Serena Questi Gli ultimi Importanti risultati Del tampone Ovviamente Poi domani Continueremo a raccontarvi Ovviamente Del monitoraggio Di una situazione Ancora tutta Da gestire Vi lascio al meteo Grazie per averci seguito Arrivederci Benvenuti al meteo In Veneto Il cielo sarà In prevalenza Sereno o poco Nuvoloso In montagna Sono previste Precipitazioni Anche se di Modesta intensità Temperature Minime Tra i 17 E i 24 Gradi Massime Tra i 28 E i 33 Gradi In Friuli Venezia Giulia Tempo stabile Assolato Un po' Ovunque Cieli In prevalenza Sereni O poco Nuvolosi Per l'intera giornata Temperature Minime Tra i 20 E i 23 Gradi Massime Tra i 32 E i 33 Gradi In Trentino Alto Adige Cieli In prevalenza Sereni O poco Nuvolosi Per l'intera giornata Salvo la presenza Di qualche Addensamento Serale Supre Alpi Alpi Nuvolosità In aumento A partire Dal pomeriggio Temperature Minime Sui 19 Gradi Massime Tra i 31 E i 33 Gradi Arrivederci Al prossimo Aggiornamento T wave Per l'intera giornata Grazie.